Grazie e naturalmente buon lavoro. Allora, è pronto il sindaco di Grosseto, Anton Francesco Vivarelli Colonna. Benvenuto, sindaco, a pomeriggio 24. Buonasera, un piacere essere con voi. Eccoci. Allora, sindaco, noi l'abbiamo invitata perché si è parlato tanto in questi giorni anche di un'altra vicenda, ovvero della paura dello stop ai fondi dei disturbi alimentari. Sono state tra l'altro organizzate tante iniziative anche per i prossimi giorni in diverse città, tra cui la sua, tra cui appunto la stessa Grosseto, dopo che appunto il Parlamento ha cancellato il fondo per il contrasto ai disturbi del comportamento alimentare. Intanto le chiedo, ci sono delle novità su questo? Ma sì, sicuramente ci sono delle importanti novità, immediatamente proprio a seguito dell'aver riconosciuta l'esistenza di una volontà organizzativa rispetto a delle attività di manifestazione presso il municipio contro appunto il non ripristino, il non rifinanziamento, perché non è un taglio ma è eventualmente un mancato rifinanziamento. Un non rifinanziamento. Esatto, che comunque sia ci sarà e su questo voglio subito rassicurarvi. Mi sono subito adoperato contattando il nazionale, contattando indirettamente anche il ministro Schillaci, che proprio in questi giorni, in queste ore, ha annunciato che appunto verrà rifinanziato il fondo e si parla di 12 milioni ma si sta già cercando gli altri per arrivare ai 25 milioni e quindi c'è già stata un'attivazione governativa che va nell'ordine. Quindi lei ci sta dando una notizia, i fondi si stanno cercando e non ci sarà questo taglio? Ma dal mio punto di vista io ovviamente non posso parlare a nome del ministro e del governo, ma avendo avuto proprio ieri dei contatti con il governo nazionale, posso dire che si sta lavorando al fine di rifinanziare appunto questo fondo fondamentale per il contrasto ai disturbi alimentari che negli ultimi tempi, negli ultimi anni, secondo delle statistiche appunto dell'azienda sanitaria, stanno incrementando in maniera esponenziale. Si parla di dati del 2016. Infatti Sindaco, mentre lei parla, guardi, mostriamo proprio insieme con l'aiuto della regia la grafica che abbiamo preparato con le cifre che sono veramente inquietanti. Non so se ha modo di vederle insieme a noi. Il 30% dei malati di chi soffre appunto di disturbi dell'alimentazione soffre di anoressia, al 70% di bulimia. Sì, infatti disturbi alimentari si manifestano attraverso varie forme, varie modalità e proprio recenti studi che sono testimoniati dalle vostre statistiche dimostrano che stiano dilagando e stiano invadendo sempre di più la sfera giovanile perché disturbi conclamati, quelli di accessi ospedalieri, di emissioni ospedaliere, accessi nei centri specialistici, danno un aumento incredibile dal 2019 al 2022, si parla da 680 mila casi a un milione e mezzo di casi nell'anno 2022 ma i disturbi alimentari più ampiamente, nel termine più ampio, sono oltre 5 milioni e soprattutto investono la fascia giovanile ed è la seconda causa di morte per i giovani dopo appunto gli incidenti stradali. Sindaco, possiamo dire che lei è un tema a cui tiene particolarmente anche per averlo vissuto come esperienza personale? Sì, 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 io non ho assolutamente nessun problema nel dirlo perché ognuno di noi ha avuto un'infanzia, ha avuto una vita e sicuramente io ho avuto problemi di questo tipo, sia di anoressia che di bulimia che di dismorfismo muscolare perché mentre l'anoressia ti fa vedere più grasso di quanto tu non sia il dismorfismo muscolare è il fenomeno opposto, cioè uno si vede piccolo quando invece è muscoloso, grosso e quindi i disturbi alimentari sono veramente difficili da individuare perché si erpeggiano, si insinuano spesso sono silenti e quindi questa è la grande difficoltà che coinvolge spesso anche le famiglie. Le posso chiedere, continuando appunto a entrare nel suo personale, nel suo caso per esempio che cosa l'ha aiutata di più? L'aiuto delle strutture sanitarie, la comprensione della famiglia, aver seguito dei percorsi di cura psicologica, quale potrebbe essere, sempre stando all'esperienza personale, la chiave per uscire da questo tipo di disturbi? Io credo che nel mio caso, come dicevo essendo una cosa che poi ti accompagna e ti marca per tutta la vita è stato lo sport, è stato l'appoggio della famiglia, io facevo un nuoto agonistico, poi ho continuato tutta la vita a fare sport quindi una vita sana, una vita salubre, una vita all'insegna della natura, del godimento appunto di tutto ciò che la nostra natura e il nostro mondo in maniera sana ci possa offrire, lo sport, l'attività, la disciplina, il sacrificio ma anche l'appoggio della famiglia quindi il mio suggerimento è quello di trovare una passione, di trovare un'attività sportiva che ti possa accompagnare che possa dare sfogo anche a quelle frustrazioni che ovviamente sono in ognuno di noi a seconda delle varie tipologie caratteriali che ci caratterizzano ma che appunto possono trovare sfogo e risoluzione in una passione, in un'attività sportiva che può passare dal semplice camminare lungamente all'aria aperta a fare attività gineco-atletica anche pesistica all'interno di una palestra, bicicletta, nuoto o qualunque cosa possibilmente a contatto con la natura questo mi ha molto aiutato Grazie allora al sindaco di Grosseto, Anton Francesco Iarelli Colonna per questa sua testimonianza e buon lavoro sindaco Grazie, buonasera, grazie Allora un'altra delle notizie del giorno riguarda il...